Musica Io sono qui per darle un consiglio Non si tratta di una minaccia, si è ben chiaro E' un semplice avvertimento Mi domando che senso ha al giorno d'oggi una storia d'amore In questo sfacelo, in questa corruzione Ma è proprio la corruzione il cemento che tiene unito il nostro paese E sono i corrotti i primi che vogliono vedere delle storie d'amore E dica che tu la pensi come loro Io non sto più dalla loro parte, dovresti averlo capito Sto dalla tua Non voglio più restare qui Dove andiamo? Non ci sono alberghi da queste parti Ho sentito dire che tu sei un intellettuale marcio Ma io non sono un intellettuale, le marcio ne sanno Me l'hanno detto in due, deve essere vero E io di te non ho sentito niente Ah si, qualcuno mi ha detto che sei sexy Solo questo? Vabbè, si diranno tante altre cose, ma io non le so Mi informerò Ma chi vai a letto in questo momento? Vittorio, c'è stato? No Nick? Dove sei? Sono qui Non sparire, ti prego Credi che anche qui ci sia qualcuno che ci sta spiando? Non credo Io ti dico di sì Cos'è che te lo fa dire? Lo sento Ma santo Dio Non si può mica passare la vita ad aspettare il momento di vendicarsi Non si può mica passare la vita ad aspettare il momento di vendicarsi